È impensabile sostenere che ponti e strade crollino soltanto per le piogge. La realtà è che il maltempo infligge il colpo di grazia a infrastrutture per lo più abbandonate e in cui non si effettua da anni alcun tipo di manutenzione. Allacciare l'allarme dopo il crollo del ponte sul fiume San Bartolomeo a Casellammare del Golfo lungo la statale 187, i vertici provinciali della CGL, il segretario generale Liria Canzoneri e il segretario della Fillea Enzo Palmeri, entrambi alcamesi. In provincia di Trapani, dicono i due sindacalisti, le strade interne sono dissestate, piene di buche con l'asfalto saltato, mentre i ponti hanno i pilastri ammalorati. I controlli e la manutenzione sono indispensabili e urgenti per garantire la mobilità in sicurezza ed evitare tragedie. Dopo il cedimento del costone del litorale di Pizzolungo che sostiene la strada provinciale Trapani-Bonagia e il crollo del ponte sul fiume San Bartolomeo al confine fra Casellammare ed Alcamo Marina, eventi che si aggiungono ai crolli e agli smottamenti degli scorsi anni, la CGL invita gli organi competenti ai controlli, si legge nella nota del sindacato, sia per l'alto ponte di accesso nella cittadina casellammarese dalla bratella autostradale, ma anche per la statale 188 che da Marsala conduce fino all'Ercara Friddi, chiuse in più tratti dallo scorso novembre per cedimento e frana al costone roccioso. Per questo CGL e Filea hanno già chiesto un incontro in prefettura con i rappresentanti dell'ANAS, del Libero Consorzio Comunale, l'ex provincia regionale e con tutti gli organi competenti. Intanto domani alle 18.30 si terrà una seduta consigliare e congiunta dei consessi civici di Alcamo e Casellammare del Golfo. I lavori alla presenza dei deputati del territorio si svolgeranno presso l'aula consigliare di Pelazzo Crociferi nella cittadina casellammarese. Sabato mattina ho ricevuto una chiamata dal Presidente del Consiglio Comunale di Casellammare e ho dato immediatamente la disponibilità del Consiglio Comunale di Alcamo a fare questo consiglio straordinario insieme al Comune di Casellammare per andare proprio a sottoscrivere un documento quantomeno di unità. I due comuni ci abbracciamo perché è indispensabile questo abbraccio per i due comuni Alcamo-Castellammare perché hanno situazioni insieme che devono curare, devono andare avanti anche sul lato turistico insieme. Noi abbiamo un albergo che sta aprendo i battenti, una bellissima struttura che è legata tantissimo a questo posto e questa strada è di fondamentale importanza. Qua stamattina abbiamo i tecnici dell'ANAS, sta arrivando l'assessore Turano, l'assessore Falcone perché dobbiamo vedere immediatamente e andare a ripristinare. a ripristinare